Mi capita di sentir dire, in riferimento al proprio cane, quando è magari agitato, nervoso, non ascolta, magari reagisce con i cani, con le persone, o distrugge. Le persone magari sentono dire, ma sarà stressato come noi, e continuano queste persone a fare le stesse cose, le stesse azioni di prima, con loro stessi e con il cane. Questo comportamento, così di banalizzare o di far finta di non vedere, non porta a nessun risultato e a nessun cambiamento, a nessun miglioramento nel cane e nella relazione tra il cane e la persona. Lo stress può avere effetti negativi, pesanti, sul comportamento, sulla fisiologia, sulla psicologia del cane. Lo stress è una situazione in cui il cane è fuori equilibrio e quindi quello che è necessario fare riportare equilibrio nel cane, nella relazione, perché se il cane è in disequilibrio non lo è certamente da solo e solo per le sue azioni o le sue reazioni e quindi è importante farsi aiutare. Ciao, sono Stefano, Stefano Pesci, istruttore ed educatore cinofilo comportamentale specializzato in comportamento del cane e risoluzione dei problemi, ideatore del metodo together dog, lei è Sharon, cane insegnante. Se ti fa piacere mi puoi anche contattare, scrivere dal mio sito www.istruttorecinofilo.it Ciao, equilibrio!